Ragazzi e ragazze vi do il benvenuto su Gastro Drums, nel video di oggi come avete potuto vedere vi voglio parlare di rullanti e voglio farlo in una maniera un po' particolare andando a vederli bene da vicino perché DS Drum mi ha mandato dei rullanti nuovissimi, una nuovissima linea chiamata Simless quindi vi voglio spiegare un po' di cose, sono tre i rullanti e sono 14x6 in alluminio, 14x6 in rame e sempre 14x6 in ottone quindi c'è tanto da dire su questi rullanti, mi sono fatto spiegare bene da Luca di DS Drum come hanno fatto a costruirli, come funzionano, è completamente diverso da come funzionano tutti gli altri rullanti quindi vi spiego un po' di cose, li vediamo da vicino e capiamo bene come sono fatti perché qui si sta parlando di qualità molto molto alta e soprattutto made in Italy perché sono fatti in Italia, DS Drum ovviamente, è italiana quindi a maggior ragione andiamo a vedere bene come funzionano questi rullanti, dopo la sigla di base nel video di oggi voglio andare, come vi ho detto, proprio nello specifico a vedere tutte le caratteristiche di questi rullanti infatti per riuscire proprio a vederli bene 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 allora ho messo tre camere, una, due e tre, questa qui e ho messo questo porta rullanti che è un porta rullanti DS Drum proprio professionale al limite della professionalità che lo metterò qua ma in realtà questo sgabello funziona perfettamente per far vedere il rullante quindi sgabello per i rullanti prendiamo il rullante in alluminio ad esempio e il rullante noi lo vediamo in questo modo qua ma questo è rullante finito quindi DS Drum in realtà per farmi spiegare bene tutte le specifiche mi ha mandato anche questo questo qua ragazzi è il fusto, diciamo, non dico grezzo perché è già lavorato ma comunque senza le viti, senza le pelli, senza i blocchetti niente di niente di niente quindi questo è il fusto in alluminio che poi diventerà questo rullante qua in pratica allora partiamo subito e capiamo come sono fatti questi rullanti questo fusto qua, facciamo così, mettiamolo qui sopra spostiamo questo qui questo fusto qua è il fusto grezzo di DS Drum che poi diventerà appunto i rullanti in alluminio la cosa veramente interessante è che questo nasce da una lastra grezza abbastanza spessa perché si parla di circa 3 mm che poi viene lavorata al tornio e le particolarità principalmente sono due la prima particolarità è che non è tutto spesso uguale questa lastra cosa vuol dire? vuol dire che la parte sopra è più fine mentre la parte sotto è più spessa infatti se andiamo a sentire il suono parte sopra parte sotto sentite che nella parte sopra il suono è più acuto perché abbiamo più finezza diciamo è più fine la parte sopra stiamo parlando di 1,3 mm mentre nella parte sotto abbiamo 2,2 mm quindi un po' più spessa a cosa serve questo? serve perché il fatto di avere lo spessore sotto ci aiuta con la cordiera per quanto riguarda il suono perché avremo un suono più corposo e più fermo quindi per quanto riguarda la cordiera riusciremo ad avere un suono di rullante più deciso secco e preciso poi se guardiamo questo bordo qua nella parte sopra del rullante e poi guardiamo il bordo sotto vediamo che sono completamente diversi perché il bordo sopra è molto più stretto come si può vedere da questa immagine mentre quello sotto è più largo la differenza è tanta ma sempre principalmente per una questione di suono e di controllo del suono stesso questo diventa poi il rullante che abbiamo visto in alluminio prima quindi questo qui come vi ho detto questo è il rullante finale quindi è veramente molto interessante vedere la differenza che c'è fra un fusto non completamente grezzo ma comunque abbastanza grezzo in confronto non ancora lavorato non ancora bucato eccetera eccetera e poi vedere questo rullante finale devo dire che mi piacciono molto anche da vedere proprio questi rullanti in più hanno questa parte qua in mezzo con questa scanalatura e il fatto che ci siano queste due tipologie di spessore mi fa impazzire infatti non vedo l'ora di provarli questo è un video esplicativo in cui ve li spiego e vi dico tutto quanto ma poi in un video che uscirà nelle prossime settimane andremo a sentirli per capire veramente quali sono le differenze ovviamente questi rullanti hanno un cerchio composto con 10 fori diciamo in questo modo con i rullanti i soliti rullanti quelli più belli diciamo perché qua stiamo parlando di qualità altissima hanno sempre 10 fori perché abbiamo la possibilità di gestire meglio l'accordatura in ogni singolo punto del rullante questi sono dei cerchi da 2,3 mm in acciaio e acciaio che c'è anche per quanto riguarda la cordiera cordiera 22 fili in acciaio mi piace un sacco questa cosa che fa DS Drum di avere scusate la cordiera che sta andando di avere la cordiera con la bandiera italiana perché ricordiamo che appunto DS Drum è 100% italiano e questo di base è il rullante veramente molto 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 carino ve lo faccio vedere un po' così perché mi piace questa cosa di potervi fare vedere lo strumento da vicino e continuiamo a parlare del rullante ma passiamo a quello in ottone una cosa che mi è venuta in mente adesso mentre stavo prendendo questo rullante qua è che come vi ho detto la linea di questi rullanti è la linea Simless Sim in inglese sarebbe cuciture Less significa senza quindi senza cuciture quindi senza saldature come vi dicevo il segreto sta alla fine nella lavorazione perché la lastra del rullante è spinta e piegata su uno stampo mentre ruota e questo va a riallineare diciamo i grani in maniera orizzontale facendo acquistare al metallo molta più durezza e di conseguenza molta più potenza di suono cosa che in un rullante saldato è impossibile trovare questo qua è un rullante in ottone quindi molto più caldo rispetto invece all'alluminio che è più secco forse più versatile l'alluminio ma sicuramente questo è un suono molto più caldo ricorda un pochettino di più il suono del legno ma ha la potenza e l'attacco di un metallo quindi ha diciamo quelle armoniche che riesce a tirare fuori solamente un metallo senza perdere il calore però del suono qui stessa cosa colore mi piace moltissimo questo colore poi a me piace veramente tantissimo parlando di cordiera che tutto quello che vi dico per quanto riguarda l'hardware del rullante vale per tutti i rullanti abbiamo il tendi cordiera con una possibilità di ghiera per tenderla mentre dall'altra parte abbiamo il tendi cordiera devo dire questo qua molto comodo perché questo tendi cordiera qua è abbastanza grandino tra virgolette molto elegante mi piace molto come fatto ma non è uno di quei tendi cordiera prima cosa che facciamo fatica magari a tirar su e giù perché questo è super super semplice non è mai troppo duro da tirare per mettere e togliere la cordiera e soprattutto è grande e lo dico come cosa positiva perché noi abbiamo possibilità in un secondo di mettere e togliere la cordiera e lo troviamo subito so che sembra una cosa stupida ma se fate magari suoni tribali eccetera dove avete bisogno del rullante senza cordiera questa cosa vi aiuta tantissimo perché è veramente molto 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 comodo lag che sono doppi quindi un lag sia per la vite sopra sia per la vite sotto e anche in questo caso devo dire che la scelta è completamente azzeccata perché fare due lag in questo caso si poteva fare ma andava ad appesantire un po' il rullante non tanto come peso ma come visione del rullante questo rullante qua in realtà la cosa bella secondo me al di là di come sia fatto al di là della tornitura eccetera è anche il colore perché come potete vedere cioè raga noi abbiamo questi colori che sono giallo, argento o diciamo direi rosso ma in realtà è più un oro rosso anche se non mi viene molto bene da dire però sono veramente molto belli e quindi andarli a riempire con dell'hardware cromato non ha troppo senso si perde un po' la finitura e quindi poi in più bisogna fare anche più buchi quindi meno buchi ci sono diciamo soprattutto per questi fusti che non hanno saldatura meglio è quindi questo qua è quello in ottone mentre quello in rame allora andiamo a prenderlo questo è quello che probabilmente più mi piace come colore sicuramente questo è veramente un colore bellissimo non so che dire non so che dire è uno spettacolo è uno spettacolo anche gli altri raga però io per questo impazzisco e soprattutto questo qua date le caratteristiche diciamo del materiale ha un suono molto caldo un suono molto caldo sempre nitido e brillante se pensiamo all'attacco ma ha un rilascio diciamo del suono molto caldo e quindi in realtà questo forse sulla carta è quello che preferisco poi nel prossimo video vedremo se sarà così anche nel momento in cui andremo a suonarlo mi piace perché appunto è quello che per quanto riguarda il mio personale parere e soprattutto il mio gusto è quello più con più carattere e quindi più personale nel senso più come si dice più con più personalità è giusto quindi diciamo che in realtà sono abbastanza versatili questi rullanti perché non stiamo andando a parlare di suoni assurdi ma in generale questo qua se vogliamo un suono più caldo magari anche per fare un panettone oppure se vogliamo un suono medio un suono medio come intonazione secondo me questo è quello che riusciamo a darci più potenza però raga questo è il mio parere personale quindi mi raccomando qui sotto voi scrivetemi il vostro quindi in generale questi tre rullanti mi sono piaciuti veramente veramente moltissimo sia per quanto riguarda la finitura ho voluto fare questo video in questo modo perché quando ho capito come erano stati creati ho detto ok prima di fare un video in cui li suoni voglio che tutti capiscano quale lavorazione c'è dietro e quale precisione attenzione ai minimi dettagli c'è dietro perché stiamo parlando veramente dei pezzi unici che non esistono di base creati in questo modo nel mondo per adesso quindi volevo parlarvene un po' perché mi ha incuriosito molto questa cosa e mi ha fatto un po' appassionare a questi rullanti di base quindi abbiamo rame suono bello caldo e bello tagliente comunque metallo quindi tutti con suoni belli taglienti ma suono più caldo se vogliamo andare più su un suono simil legno quindi già un po' verso il caldo senza fare allora altro casino senza però dover perdere un po' di attacco quindi mantenendo l'attacco del metallo andiamo su questo che è in ottone e se vogliamo diciamo quello che forse è quello con più attacco e tra virgolette più versatile andiamo sull'alluminio che raga guardate cioè non so da che camera no ve li facciamo così se mi cadono Luca non te la prendere però raga guardate quanto sono belli questi rullanti cioè hanno una finitura veramente pazzesca e però io non mi fido di me stesso quindi li metto un attimo giù ed è pazzesco pensare che questi rullanti partono da questa cosa qua ma in realtà prima partono da una lastra da una lastra di metallo e basta cioè pensate cosa si riesce a fare con una lastra di metallo e che suoni si riescono a ottenere ultima cosa che non vi ho detto perché mi sono bellamente dimenticato me ne sono accorto adesso mentre ne parlavo ma giusto così riguarda lo snare bed che praticamente è l'infossatura diciamo tra virgolette come potete vedere qua per il letto bed snare bed per quanto riguarda la cordiera quindi come vedete c'è un'infossatura che hanno tutti i rullanti questo giusto come argomento per conoscitivo nel senso per far capire come funziona e quindi permette alla cordiera di essere più vicina al rullante più vicina alla pelle di attaccarsi bene alla pelle e quindi di avere un maggiore controllo una maggiore precisione nel momento in cui appunto la cordiera deve fare il suo lavoro e fare il suono di cordiera del rullante quindi grazie mille veramente a DSTrum per avermi mandato questi rullanti io vi chiedo cosa ne pensate di questo video principalmente perché ho voluto provare a fare un video diverso dal solito in cui vi facevo vedere i rullanti da vicino e non solo perché vi facevo vedere anche questo prima di diventare un rullante fatemi sapere cosa ne pensate se vi piacerebbe vederlo in generale su alcune parti della batteria magari non solo rullanti eccetera voglio ringraziare tantissimo DSDrum per avermi mandato questi tre rullanti più questo fusto tre virgolette grezzo quindi ragazzi uscirà un video comunque dove vi farò sentire bene dove li analizzeremo dal punto di vista del suono oggi li abbiamo analizzati dal punto di vista di finitura di come sono fatti eccetera ma è il momento di suonarli quindi preparo il video li provo magari un po' di accordature diverse vedo un po' quali sono le loro caratteristiche sonore e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao